ragazzi questa volta non sto scherzando come l'altro giorno che vi ho imbrogliato questa volta ragazzi chiudo veramente il canale forse forse chiudo il canale ragazzi perché almeno io non mi sto divertendo a fare video come una volta cioè tre mesi fa almeno io ragazzi niente ragazzi io dico forse non è ma dico non lo so sono incerto di questa cosa comunque farò video questi giorni tranquilli ma farò un video per dirvi se abbandono oppure no e niente ragazzi questa volta uno scherzo appunto vi ho detto il motivo questa volta lo so non mi piace più come una volta fare video ragazzi non mi sto divertendo più bene ragazzi lasciate come sempre 15 like niente io vi farò sapere se lascio o no noi ci vediamo in un prossimo video bella